Questa ci può dare veramente se la centriamo una svolta al campionato, anche tra di noi sappiamo quali sono i nostri limiti adesso perché non bisogna nasconderlo, siamo in difficoltà, però con tutte le forze e in tutti i modi cercheremo appunto di riuscirne perché penso che ognuno di noi il valore di questa squadra è stato dimostrato tantissime volte sul campo che può dare veramente grandi soddisfazioni personali ma anche ai nostri tifosi e a tutta la gente che segue il Bari.